Ciao e benvenuto o benvenuta alla presentazione del corso in Power Automate, uno strumento dalle potenzialità straordinarie che ci dà la possibilità di costruire dei flussi all'interno del nostro account Office 365 che semplificheranno enormemente la nostra attività lavorativa e che talvolta riusciranno ad abbattere anche del 100% i tempi di lavoro in ordine alle attività sulle quali vengono costruiti. Come puoi vedere Office 365 in Power Automate ci mette a disposizione tantissimi modelli preconfezionati che all'occorrenza personalizzandoli potranno essere utilizzati oppure potremo creare dei flussi come faremo noi nelle lezioni da zero cioè partendo da dei trigger di Office 365 ma qui vedi che ci sono anche dei trigger di terze parti cioè da ambienti come per esempio SharePoint dove si verifica un evento che scatena il flusso che quindi fa verificare tutto quello che andremo a programmare a valle. In questo corso avrai a disposizione non soltanto le video lezioni ma anche un pacchetto di diapositive PowerPoint che ovviamente potrai scaricare e che ti consiglio di seguire parallelamente alle video lezioni. Andiamole rapidamente a vedere e qui come si può notare ci occuperemo prima di tutto dell'ambiente di amministrazione di Office 365 e dell'ambiente degli amministratori cioè del sistema dei permessi di primo livello perché altrimenti senza sapere queste cose non si può utilizzare nessuna applicazione di Office 365 Power Automate compresa quindi prima bisogna creare gli utenti gli ospiti i gruppi le caselle di posta elettronica condivise bisogna capire chi all'interno dell'account Office 365 può fare che cosa quindi a chi l'amministratore generale ha conferito ulteriori ruoli di amministrazione e a chi gli amministratori hanno conferito a loro volta ulteriori ruoli quindi chi sono le altre persone che possono fare che cosa all'interno dell'account altrimenti non si riesce ad utilizzare nessuna applicazione. Faremo una breve introduzione a Office 365 ci occuperemo poi dell'ambiente di amministrazione con la struttura dell'architettura dell'account Office 365 anche con alcuni esempi di supporto poi andremo a vedere le impostazioni di Office 365 quindi il pannello di amministrazione la creazione di un modello utente l'aggiunta multipla di utenti l'aggiunta di contatti l'aggiunta di ospiti la gestione delle caselle mail condivise ti faccio vedere in proposito l'assegnazione dei ruoli ad un ospite che si sta costruendo poi ci andremo ad occupare del sistema dei permessi di primo livello quindi del discorso degli amministratori del chi può fare che cosa all'interno dell'account quindi con le macro categorie di azioni all'interno dell'account la creazione l'operatività e la condivisione la figura dell'amministratore poi vedremo quali sono i criteri per assegnare i ruoli di amministrazione poi vedremo i ruoli di amministrazione di uso più comune all'interno dell'account Office 365 dopodiché passeremo a costruire i flussi dopo che avremo i nostri membri i nostri ospiti i nostri gruppi le nostre caselle di posta elettronica condivise avremo capito chi può fare che cosa all'interno dell'account Office 365 a partire da alcuni triggers costruiremo i nostri flussi in Office 365 che come vedrai semplificheranno enormemente l'attività lavorativa anche dei flussi trovi gli screenshot di modo che poi tu possa anche indipendentemente dal video poter vedere la diapositiva e quindi ricostruire il flusso di lavoro anche nel tuo account Office 365 ti aspetto al corso ciao